La Mai Cicero conquista la quinta vittoria casalinga consecutiva, regalando un compleanno con i fiocchi alla presidentessa Barbara Rossi. Pesaro batte Casal Maggiore per 3-1, guadagnando virtualmente la permanenza in A1 e potendo guardare in alto più che indietro. I play-off sono sempre più vicini. La Pomi mostra buone cose in avvio, poi però cala la distanza. La Pomi mostra blackout preoccupanti e soprattutto si spegne sempre sul più bello. 19-25, 25-23, 25-16 e 25-21 i parziali in favore delle Locas, che si rifanno con gli interessi della brutta sconfitta subita a Modena pochi giorni prima. Lucchi punta su Drius come opposta e l'idea è valida perché l'americana è in palla, ben coadiuvata da Martinez, a cui però il dentro fuori ha forse rallentato il ritmo. È la partita dei muri e dei servizi, delle centrali coinvolte e positive su ambo i lati e delle palleggiatrici azzurre a confronto. Ne esce un match godibile e divertente, condotto in porto da una Nizetic, 19 punti, in grande spolvero. Pesaro replica la gara di andata e, con un'avversaria comunque molto più quotata e lunga di qualche mese fa, porta a casa anche il match di ritorno. Casalmaggiore ora pensa alla Copa Cev, martedì sarà in Ungheria per l'andata degli ottavi di finale. I margini di crescita sono grandi, ma adesso il tempo stringe. Io credo proprio che tutte le nostre vittorie che abbiamo conquistato fino ad ora sono state davvero il frutto del lavoro della squadra e non della singola giocatrice. Finalmente ci siamo riusciti a esprimere ancora ai nostri livelli dopo la brutta sconfitta di mercoledì. Volevamo a tutti i costi vincere questa partita, siamo state brave, siamo state squadra e adesso ci godiamo questa vittoria e penseremo poi alla prossima partita.